Buonasera da Rianna Botticelli e bentornati all'informazione bianco-celeste di LazioNews.eu. La Lazio è divisa a metà, sono 12, infatti, nazionali che hanno lasciato formello e hanno risposto presente alla convocazione dei CT. Il primo a scendere in campo è Cataldi con l'Under 21, poi toccherà Donazzi e la coppia Beriscia-Milinkovic, che si affronterà nell'attesissima e accesa gara tra Albania e Serbia. Tra due giorni, invece, sarà il turno di Candreva e Parolo. L'Italia se la vedrà contro l'Azerbaijana e il CT Conte sta pensando di schierare entrambi dal primo minuto. Dal ritiro dell'Olanda ha parlato il difensore bianco-celeste Wesley Hoot. Gli errori di Napoli sono stati una brutta batosta, ma quella è stata una giornata di apprendimento. Qui in Italia il calcio è molto diverso, ogni partita è una battaglia, conclude il giovane olandese, in ascesa dopo le buone prestazioni delle ultime gare. E mentre la squadra si allena sui campi, in silenzio i lavori a formello proseguono senza sosta per dare vita all'Academy. Come appreso dalla nostra realizzazione, infatti, dal 2016 tutte le selezioni giovanili potranno essere racchiusi all'interno del centro sportivo bianco-celeste. Intanto, la primavera continua a vincere. I ragazzi di Inzaghi, infatti, rifidano un roboante 9-0 ai rumeni del Brasov, gara valida per il trofè Uoitiwa. Mattatore del match è Calì, autore di 5 gol. È stato un buon allenamento, dichiara la punta a fine gara. Dispiaciuto perché non incontro la Roma? No, non ci sarebbe stato gusto, loro avrebbero schierato gli allievi. Anche il tecnico delle baby aquie ha preso la parola dopo il triplice fischio finale. Dimostrandosi soddisfatto. La condizione sta crescendo e siamo contenti. Adesso ci aspetta la finale. Vogliamo vincere questo torneo. Capitolo calciomercato. Nelle ultime ore si è parlato del peruviano Carillo, messo fuori rosa dallo Sporting. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, al momento non ci sarebbero stati contatti tra la Lazio e la gente ed il futuro del giovane esterno classe 91 appare lontano dalla capitale. Con l'infortunio, i guai continuano anche fuori dal campo per le omessi. La stella del Barcellona, infatti, sarà processata in Spagna per frate fiscale. E secondo quanto scrive il Paese, il quattro volte pallone d'ore è accusato di avere evaso 4,1 milioni, sfruttando aziende che operano in paradisi fiscali e quindi sono stati chiesti 22 mesi di carcere. Questa era l'ultima notizia di giornata per LazioNews.eu, Arianna Botticelli.